...com'on tire la patria, com'on donna la forma a la patria. Abbiamo già detto la tecnica di suplare, c'est-à-dire com'on supli, c'è la tecnica per le patria, c'è la tecnica per le patria, c'è la tecnica per le patria, per l'acqua, per l'acqua, per l'acqua. So, now we're going to share the video. Ora, vorrei fare una piccina scultura. Grazie. Ci vogliono 15-20 anni per diventare maestro di vetro e non ci sono scuole a Murano. È ancora una tradizione di famiglia. There's no schools where you can learn this. Still today it's an apprenticeship and it's ending down from generation to generation. Non tenemus tre scuola a chi non ne apprende l'estate. C'è una tradizione del padre in Chico. Adesso ve lo fa vedere, la dimostrazione è terminata, poi chiudiamo le macchine fotografiche e incriamo a visitare tutte le sali positive. Now, let you see the little horse and you can take a nice picture.